Ciao, sono Marco, marketer immobiliare che ti vende casa ai migliori prezzi di mercato senza perdi di tempo. Siete una giovane coppia in cerca di un nuovo inizio? Ecco la soluzione giusta per voi. La prima casa è una scelta estremamente difficile. Tra i dubbi e l'inesperienza, commettere un piccolo sbaglio potrebbe portarvi al baratro di una casa che non sentite vostra, un luogo che non vi aggrada causando litigi di copie e rischio di perdere enormi cifre di denaro. Ma relax, oggi ti farò vedere la risposta per una coppia felice pronta a riempirsi di orgoglio per aver acquistato il loro primo immobile e iniziare un nuovo cammino insieme. Mi trovo in località Pergola per presentarti questo nuovo trilocale al primo piano ad alta efficienza energetica. Essendo una costruzione abbastanza recente, ovvero del 2010, il costruttore non ha badato a spese. Infatti la classe di questo immobile per pochissimo non raggiunge la classificazione B. Eccoci qui, appena entrati abbiamo l'angolo cottura dove potrete installare la cucina che volete. In questo angolo possiamo mettere un divano con la zona relax, la zona tv. E sempre qui nel salotto c'è un balconcino con belle giornate come questa, potete vedere il sorgere del sole. E proseguendo nella zona notte abbiamo la camera matrimoniale, una camera singola, utile anche nel caso arrivasse un bambino, bagno e ripostiglio. Come accenato prima, i seramenti sono di ottima qualità. Sai questo cosa significa? Che l'unica cosa di cui ti dovrai preoccupare una volta scelto questo immobile sono i tuoi gusti personali per l'arredamento e nient'altro. La pergola è famosa per essere una zona strategica, infatti è il miglior punto d'incontro per quelle coppie che lavorano in luoghi opposti. Il contesto è pulito e tranquillo, qui non subirai il caos di un condominio affollato o di un centro paese. Essendo formato solo di 4 unità potrai goderti la tua casa senza eccessive spese condominali. Qui è presente anche un garage doppio piastrellato. Insomma, abbiamo visto un immobile di qualità, pronto all'uso, in un quartiere pulito. Cosa bisogna fare per averlo? Devi solo cliccare il link qui sotto e fissa una visita per toccare con mano la tua prima dimora. Da Marco Market Immobiliare ci vediamo a rogito. Ciao!